ragazzi questo è un video sfogo un video solamente per parlare infatti sarà montato così alla rapida perché voglio che questo video lo vediate subito perché questa cosa non non va bene sinceramente questa cosa a me non mi piace non va bene perché sono passato da fare 100 200 300 anche visualizzazioni al video a farne a malapena 30 40 ok e sta roba non va bene perché non c'è mondo che funzioni così sta roba ovvero faccio un video stupido col telefono magari anche girato male montato male faccio 300 400 visualizzazioni invece faccio un video dove mi impegno nell'editar anzi vi faccio vedere allora praticamente mercoledì dove uscire un video deve uscire il video di granny e guardate vi faccio proprio vedere ecco ragazzi questo è il progetto del video di granny guardate quanto quanto casino ci sta perché mi sono messo veramente di impegno a farlo ok ecco qua perfetto l'avete visto la roba che mi fa veramente girare in oio è che io faccio dei video mi impegno ci metto tipo due tre ore a registrarli e cinque ore ad editarli cinque ore avete capito bene quindi io impiego otto ore di tempo solamente per registrarlo ed editarlo la copertina non ne parliamo neanche perché non si sa mai se tu trovi quell'immagine specifica che ti serve per montare quella copertina non si sa mai se tu riesci ad aggiustare magari quella copertina perché magari non ti piace questo youtube questo è il fare youtube io io anche se in termini di scritti non sono ancora grandissimo comunque vi posso dire che ci sono ormai entrato nel mondo di youtube vedo tutto quanto proprio davanti ai miei occhi come si fa un video come si carica un video come si renderizza un video tutte quante queste cose io le so prendete tipo non lo so Mario Mazzone, Fancy, Meme Officialita magari Stockdroid tutti quanti youtuber che utilizzano la mia stessa tecnica ovvero che magari se dicono qualcosa che è da bippare oppure dicono qualcosa che rimanda a qualcosa ci mettono il meme e questo è quello che faccio io magari loro lo fanno in maniera un po' più esaustiva magari loro editando il video un po' meglio fanno essere il video magari un po' più attivo io queste cose purtroppo ancora non le so fare perché mi devo ancora ambientare bene sul programma che ho comprato per editare i video ma di tutto il resto ragazzi è uguale cioè nel senso c'è il video il meme e basta video meme conclusioni basta ok non c'è nient'altro e quegli youtuber fanno 100.000 200.000 visualizzazioni a video io mi ritrovo così comunque ero io a fare 30 visualizzazioni a video 30 40 visualizzazioni a video quando prima ne facevo 200 adesso ditemi com'è possibile sta roba cioè cosa non vi piace dei miei video non vi piace lo sfondo va bene lo cambio ci metto il green screen non vi piace la posizione del microfono la cambio ok non è un problema se non vi piace qualcosa la cambio ok non vi piace magari anche che faccio i video da solo va bene li faccio con i miei amici ma non c'è problema si trova comunque la soluzione quindi mi raccomando fatelo scrivete qui sotto nei commenti quello che non vi piace del mio canale quello che vorreste vedere migliorare e quello che vorreste vedere cambiare perché io semplicemente sono stufo ok semplicemente sono stufo di vedere tanto sforzo per pochissima soddisfazione non è non è possibile ok per non parlare poi dei soldi che ci butto su questa roba ok io su questa roba ci butto una vagonata di soldi prendete per esempio la fotocamera che è una sony alfa 7r5 prendete per esempio la regia audio prendete per esempio il computer e il microfono quando mi sono venuti a costare lo sfondo io voglio solamente più visualizzazioni e da queste visualizzazioni voglio voglio che più gente si senta bene e rida perché non so quanti almeno una volta alla settimana mi vengono a dire eh mi sono spaccato la risata con questi video ma allora perché non lo condividi questo video cioè grazie grazie del complimento ma condividi questo video condividete tutti quanti i video che vedete se vi fanno spaccare da ridere condivideteli punto questo vi chiedo di fare vi chiedo semplicemente di fare questo come io faccio il mio dovere da creator voi fate il vostro dovere da utenti normali da viewer se continuiamo così anche dopo questo video non me la sento più di far video cioè se vogliamo continuare così anche dopo questo video anche dopo questo annuncio che vi ho fatto semplicemente chiudo direttamente il canale non faccio più video perché non è possibile ripeto che devo stare otto ore al computer magari anche dieci perché non si sa mai se ce ne metti nove dieci magari anche dodici di ore sono stupido di stare tutto questo tempo al computer semplicemente per ritrovarmi qualche decina di visualizzazioni ok magari una di più una di meno no non è possibile voglio semplicemente fare i video impegnarmi farmi un lucido cubo grosso così per fare i video e raggiungere la mia stima la mia stima è almeno 100 visualizzazioni a video ok punto io sono come tutti quanti gli altri youtuber che ci stanno in questo mondo solamente che a differenza loro non ho 200.000 iscritti non ho un milione due milioni di iscritti ma ne ho 200 213 214 quello che è ragazzi io spero che dopo questo video le visualizzazioni cresceranno condividete ogni singolo video che uscirà da questo momento in poi anche magari quei due che avevo fatto prima cos'è quella cosa sbagliata in questo canale che non va bene che non fa crescere i miei video qual è ragazzi iscrivetevi qui sotto quello che vorreste vedere quello che vorreste vedere cambiare quello che vorreste vedere sparire in questo canale perché per farlo crescere per condividere i video per far arrivare questo canale fin sopra i feed di youtube quello che comunque dico in tutte quante le outro dei miei video non lo so ragazzi è così semplicemente così o i miei video crescono di visualizzazioni oppure non me la sento più di far video punto questo punto è arrivato il momento non solo di far chiedere a voi ma anche di far chiedere a me perché non è possibile questa cosa ok vabbè ragazzi io con quest'ultima frase vi saluto quindi come sempre io vi saluto Luke saluta e ci vediamo in un prossimo video facciamo te grazie a tutti grazie a tutti